Topi d'appartamento in azione, svaliggiata la casa di un ristoratore cinese. Un colpo grosso da 10.000 euro in contanti, due lui-hui ton, orologi di lusso e pelletteria di pregio. L'amara sorpresa per il gestore del ristorante Il Milione di zona stadio alle 16, quando il trentenne faceva rientro nella sua abitazione di via Ruspoli. All'interno i topi d'appartamento si erano dati da fare mettendo a suo quadro tutte le stanze e portandosi via il ricco bottino corrispondente a un'intera settimana di lavoro.